Buonasera a tutti, grazie. Siamo qui nuovamente per una delle presentazioni del GVMAB sulle buone pratiche e con molto piacere questa sera accogliamo Elena Martellotta e Luca Martinelli per parlarci del loro lavoro, del lavoro che hanno fatto sul progetto col Museo Egizio. Una collaborazione tra il Museo Egizio e Uchi Media Italia che in realtà è una collaborazione molto ampia e pluriennale, quindi una collaborazione di ampio respiro, quindi ancora anche per questo insomma molto interessante come caso che ha riguardato non solo il caricamento di immagini e metadati di cui più nello specifico ci parleranno stasera Elena e Luca, ma proprio l'elaborazione di un data management plan per il museo. Quindi è un'esperienza molto importante soprattutto nell'ottica di sostenere la necessità di una maggiore apertura e liberalizzazione per quanto riguarda l'uso delle immagini e dei beni culturali in pubblico dominio. Quindi ha un significato particolare anche sotto questo aspetto. Loro comunque ci parleranno della parte appunto del lavoro che hanno fatto, ve li presento brevemente. Elena Martellotta ha studiato storia dell'arte prima a Bari e poi a Venezia, si è specializzata prima in Digital Humanities e poi anche nell'ambito archivistico e attualmente lavora al sito UNESCO di Castel del Monte. Ha collaborato con Wikimedia Italia, oltre che per questo progetto del Museo Egizio, anche per il progetto Dati Lombardia con Mattia Minelli. Luca Martinelli è amministratore di Wikidata e socio di Wikimedia Italia. Quindi lascio subito a loro la parola nell'ordine che preferiscono e grazie. Grazie mille Elena per l'invito, oltre che la fantastica presentazione e introduzione. Entriamo già un po' nel vivo, dicendo che io e Luca ci siamo occupati ovviamente di una parte un po' più tecnica, come già insomma introdotto da Elena, sostanzialmente in realtà questo discorso si può inserire appunto in un ambito molto molto più ampio. Inizio condividendo il mio schermo e dovreste vederlo tutti, suppongo. Allora, questa diciamo è un'esperienza in cui abbiamo cercato anche un po' di delineare, essendo un po' un progetto pilota per l'upload delle immagini su Wikimedia Commons, abbiamo cercato di delineare un po' quello che potevamo fare con questi strumenti. In generale, appunto, il contesto in cui ci troviamo è quello proprio di cercare di orientare questo progetto e allinearlo a quello che è la mission del movimento Wikimedia, quindi cercare di liberare l'accesso al patrimonio della conoscenza, permettendo il libero riutilizzo sia di dati che di immagini. Sono due cose leggermente diverse appunto per i dati, solitamente ci sono anche meno problemi nel rilascio in pubblico dominio delle informazioni, soprattutto per quello che concerne i dati relativi al patrimonio culturale. Per le immagini invece, diciamo, questo abbiamo anche notato dal dibattito che si è generato nell'ultima Wikicon che si è tenuta a Bari proprio qualche giorno fa, relativamente proprio al libero riutilizzo delle immagini. Come siamo arrivati? Ovviamente abbiamo detto i dati, è un po' più semplice ottenere le licenze, è un po' più facile, per così dire, insomma, lavorare con i dati e vi proponiamo come esperienza precedente quella del progetto dei dati della Regione Lombardia, perché è un esempio riuscito di come una collaborazione con un'istituzione come quella di una Regione possa inserire, diciamo, permettere l'inserimento di dati che sono a disposizione di tutti, per tutti. Qui nella presentazione, che poi, insomma, penso avremo modo anche di condividere, c'è il link sia alla relazione di quello che è stato tutto il procedimento di elaborazione di questo dataset relativo ai beni immobili della Regione Lombardia, appunto di come questo dataset è stato pulito, ordinato e predisposto all'esportazione in Wikidata. Quindi, attualmente, tutto questo dataset si trova in Wikidata con tutte le informazioni che la Regione ci ha fornito. E, vabbè, c'è anche, insomma, una presentazione nella scorsa ItWiki con l'edizione del 2022, in cui è stato presentato sempre, insomma, come progetto quello che abbiamo fatto. Gli strumenti utili che sono stati, appunto, utilizzati, che sono gli stessi che poi abbiamo utilizzato anche nel progetto del Museo Egizio di Torino, sono OpenRefine, che è il nostro tool preferito perché ci permette, tramite l'estensione apposita in Wikidata, di ordinare i dati, predisporli all'importazione. E questo anche, diciamo, sapendo già cosa abbiamo. Ovviamente, un dataset, sottinteso, e Quick Statements, che poi vedremo perché è stato adoperato, oltre, ovviamente, ad accanto ai Wikidata e ai Wikimedia Commons. Per entrare un po' più nello specifico, il progetto del Museo Egizio si è svolto in due grandi momenti. Il primo momento era quello relativo all'elaborazione dei dati. Noi, in questo caso, già predisponevamo di un bel cospifo, insomma, dataset con tantissimi dati, soprattutto molti dati descrittivi, quindi andavano ordinati. E quindi abbiamo cercato di perdere meno informazioni possibili da questo dataset di partenza. Questo come? Come? Cercando, ovviamente, di predisporre questi dati, elaborandoli per essere il valore più idoneo alla proprietà corrispondente in Wikidata, oppure dei qualificatori di quella stessa proprietà. Questo, in realtà, è stato un lavoro molto lungo. Adesso poi vi farò vedere anche quello che, appunto, è stato proprio il progetto su OpenRefine, perché da dati che possono essere molto semplici, come l'identificativo, che ha creato qualche problemino, ecco, però siamo riusciti, ovviamente, a importare tutto il dataset, sempre in Wikidata, tramite OpenRefine. C'è una precisazione da fare, ovvero che, in questo caso, il dataset non presentava molti oggetti già esistenti su Wikidata. Una delle cose essenziali, appunto, insomma, alla base delle buone pratiche per chi cerca di, insomma, lavorare con Wikidata, è non importare dei dati, degli item che già esistono in Wikidata. A parte qualche esempio che era stato importato prima, insomma, dell'importazione massiva in OpenRefine, ovviamente, diciamo, c'è stata un'elaborazione molto più scorrevole. E questo, come, diciamo, discutevamo anche stamattina con Luca, è, diciamo, anche un qualcosa di utile. Nel momento in cui si ha conoscenza che c'è un upload massivo di dati, evitare il caricamento, invece, manuale di dati relativi a quel dataset, perché in questo caso non si va altro che, insomma, generare ulteriore confusione. E poi, nel momento in cui si fanno, insomma, ci sono, insomma, degli strumenti di controllo, come magari le query o anche, insomma, Quick Statements, soprattutto, appunto, nella fase finale, fanno errore, si può risolvere, però, ovviamente, rallentano questo lavoro che già di per sé è molto minuzioso e anche, insomma, prende parecchio tempo. E, appunto, vi dicevo, Quick Statements è stato utilizzato come strumento di controllo nella fase finale dell'upload dei dati, perché in caso di dati già esistenti oppure di altri errori, lo segnala. Invece, se noi facciamo l'upload direttamente da OpenRefine, ce ne accorgiamo in un secondo momento, quindi, in questo caso, non riusciamo ad intervenire in una fase, diciamo, proprio immediata, quindi questo è sempre meglio. Prima di farvi vedere un esempio, insomma, di output, scusate, ecco, allora... Perdonate, questi momenti un po' lenti, ma con uno schermo solo, di solito, cioè con due schermi sono un po' più veloce. Allora, vi faccio vedere direttamente, appunto, diciamo, l'accermata di OpenRefine, in particolare quella del progetto con tutti i record del Museo Egizio. quindi, qui vediamo tutto. Voi vedete anche questa finestrella, vero? Troverò il modo di nasconderla, così... Ok. Vabbè, non ti preoccupare. Allora, come vedete, in realtà, qui abbiamo tantissime righe, ma anche tantissime colonne. Scusate il bollettino d'arte. Molte colonne vi sembrano vuote, ma in realtà, diciamo, non è neanche così, perché, come vi dicevo, abbiamo cercato di perdere meno informazioni possibili. E questo come? Mettendo i dati, diciamo, quando presenti, anche in pochi record. Quindi, se, per esempio, mettiamola così, la provenienza di un item era noto solamente per alcuni, pochi e non la maggior parte, noi in realtà, per quelli dove era segnato, l'abbiamo indicato. Vedete anche che qui, in questo caso, è stata fatta, insomma, tutta quanta la riconciliazione. Quando ci sono le barrette verde, vuol dire che questi elementi sono presenti in Wikidata e sono riconciliati, ti dice anche il livello, mettendo qui la manina, 100% abbinati con elementi in Wikidata. Quindi, come vedete, in realtà, qui c'è una leggera differenza. Qui è già direttamente un item che mi propone che è stato già generato. Noi che abbiamo fatto? Abbiamo ottenuto questo numero di inventario che non è altro che l'identificativo, però, nel momento in cui io lo vado a riconciliare con l'item su Wikidata, il valore rimane sempre cat 30, però io lo leggo come statuetta del Dio Siris. Per cui, a vista d'occhio come comunità personale, abbiamo comunque tenuto l'identificativo in una nuova colonna. Messo la categoria, che in realtà altro non è che l'istanza D, e quindi abbiamo ricondotto tutte le categorie, che sono tantissime, quindi se adesso provo a fare una call, vediamo se la connessione legge, una query, dovrebbe elencare tutte. animali, eccetera, forse non è stata una buona idea. Ecco, qui un esempio, accetta, ampolla, muleto, e così via, le abbiamo ricondotte a istanze presenti su Wikidata. L'etichetta, che non è altro che sarà poi insomma il nome che daremo a questo item, la descrizione, perché insomma, buona prassi, avere item su Wikidata, che presentino una descrizione, che dicano effettivamente di che cosa si tratta, e dopodiché vedete insomma tutte queste colonne come i materiali. È stato fatto anche un lavoro di discernimento tra il colore della prima materia e così via, insomma, i diversi materiali presenti, perché nel caso magari di oggetti con più materiali andavano preservati tutti quanti. La tecnica è stata un po' più difficile insomma da preservare, e anche perché lì insomma ci sono, è molto più descrittivo, appunto, vi dicevo, questa è stata una delle principali difficoltà. Poi abbiamo i valori puntuali, numerici, dell'altezza, larghezza, spessore, che in realtà adesso li vedete tutti belli ordinati come valori numerici, vedete, tipo di dato numero all'interno di Opera Refine, ma altro non sono, cioè anche lì è stata fatta un'operazione di suddivisione dei dati, perché erano all'interno di un'unica casella di testo, e quindi è stato individuato il separatore, isolati i diversi dati corrispondenti in diverse colonne. In alcuni elementi addirittura era presente il diametro o addirittura il peso. Ovviamente c'era presente anche il periodo, ce ne sono tanti appunto, proprio perché in caso di incertezza temporale il raggio è molto più ampio, quindi abbiamo preservato anche insomma questa ampiezza temporale. Lo stesso con la dinastia, con il regno, e poi quando presente abbiamo anche gli estremi temporali, il termine sposta antequem, oppure da a, oltre insomma al millennio, che è un dato che abbiamo appunto preservato. Questo prosegue con la provenienza, proprietario, in alcuni casi era indicato anche il direttore degli scavi o il proprietario e ovviamente anche da quando appunto sono stati effettuati questi scavi oppure da quando il proprietario insomma è entrato in possesso e quindi anche questi sono dei dati che diciamo con un'opera minuziosa e tanta pazienza abbiamo individuato e separato. La cosa più semplice probabilmente era la collocazione all'interno delle sale del museo Gizio, quindi sono state generate tante nuove schede su Wikidata, quante sono le sale in cui sono conservati i manufatti. Utilissimo elemento è stato ovviamente nel nostro caso, soprattutto per quanto riguarda poi insomma mettere anche la qual è la fonte della nostra affermazione, abbiamo anche il link di riferimento che è stato normalizzato anche qui magari per chi fa i database inserire diciamo un link non da normalizzare ma già normalizzato può essere molto molto utile e accorciare insomma le tempistiche di elaborazione dei dati. Nel nostro caso avevamo anche insomma tutti questi dati che vi ho mostrato prima anche in inglese. Qui vedete per esempio le dimensioni in questa tabellina in cui c'era la parola dimensione e poi insomma tutti quanti i dati. Quindi attraverso delle formule di trasformazione precise insomma qui c'è anche insomma tutto uno storico in cui attraverso appunto delle formule di replace o comunque di separazione sono state appunto eliminate le parole dimension centimetro utilizzato come separatore l'x tolte gli spazi e poi insomma abbiamo messo altezza larghezza e lunghezza. Questo un po' per presentarvi diciamo la complessità di questo database quindi ovviamente la prima cosa fatta è stata preparare i dati in maniera tale da poter essere leggibili in Wikidata. Abbiamo riconciliato tutti questi dati con gli elementi presenti su Wikidata infatti vedete tutte queste bellissime barrette verdi vuol dire che il lavoro è riuscito e come abbiamo fatto per importarli abbiamo impostato lo schema che poi insomma magari Luca vi farà vedere diciamo su un progetto che effettivamente può esportare dati in questo caso diciamo vedete un po' l'anteprima di come si può costruire innanzitutto devo soprattutto nel momento in cui utilizzo una versione di Open Refine successiva 3.7 che è necessaria per chi vuole lavorare e fare l'upload di immagini oltre che di dati selezionare qual è diciamo il Wikibase sto lavorando con Wikidata o con Wikimedia Commons in questo caso Wikidata se voglio posso insomma o esportarmi o insomma già salvarmi uno schema e qui ho tutti insomma i nomi delle mie colonnine che non sono altro che poi insomma gli oggetti che andrò a inserire qui quindi il mio identificativo per esempio in questo caso è l'ID dell'URL diciamo quindi l'identificativo di questi oggetti cosa voglio inserire l'etichetta che io in maniera diciamo un po' più sbrigativa avevo già nominato etichetta anche insomma con la colonna corrispondente per evitare di confondermi in questa fase la descrizione che quindi è un campo di testo libero ovviamente andando a specificare anche il tipo di lingua quindi posso anche insomma aggiungere la descrizione anche in inglese così via insomma predisporla per come come mi serve aggiungere la dichiarazione quindi istanza di che cos'è abbiamo detto la categoria lo inserisco qui ovviamente questo diciamo non entriamo troppo nel dettaglio perché porteremo tantissimo tantissimo tempo però vi dico anche che innanzitutto qui magari molti di voi utilizzano già per refine quindi questo potrebbe essere superfluo però in ogni caso questa sezione di schema ecco mi dice che c'è un errore in problemi scusate mi dice che c'è un errore perché mi dice che qui guarda il campo è vuoto in questo caso se io lo rimuovo vediamo se mi dice se ho dei problemi ce ne sono tantissimi perché non ho inserito la fonte e mi dice anche guarda su 13 verranno creati nuovi elementi di wikidata qui ho un'anteprima e quindi insomma riesco a sapere prima quello che sto andando a importare in wikidata le modalità adesso di esportazione sono due o carico le mie modifiche su wikibase una volta che sono sicura assolutamente di questa modifica oppure l'esporto verso quick statements come dicevo ho preferito quest'ultima opzione perché mettendo il file text che si genera nel momento in cui clicco esporta verso quick statements in quick statements stesso nella fase di upload emergono già degli errori quindi si interviene direttamente senza andare a fare insomma a pescare l'ago nel pagliaio e questo l'ho trovato insomma molto molto utile e questa diciamo è stata la prima fase dei lavori la seconda fase dei lavori invece ovviamente era quello che riguardava le immagini le immagini se torniamo qui appunto sostanzialmente abbiamo optato per la creazione di nuovi progetti anziché utilizzare database di dati che già avevamo per un semplice motivo perché avevamo più immagini per ogni item e quindi ovviamente aveva bisogno di una riga per ogni immagine quindi diciamo anche questo è stato un lavoro che ha portato via tanto tempo perché anche se il caricamento è massivo però diciamo c'era una preparazione manuale e ovviamente open refine ci permette anche di creare dei nuovi progetti e questo diciamo è molto molto comodo abbiamo bisogno di essenzialmente questi elementi che vi segnalo qui quindi diciamo deve avere un nome che cosa rappresenta the pics il main subject e il wiki text in maniera tale che noi andiamo a già munire queste fotografie dei dati strutturati senza andarli poi inserire manualmente in un secondo momento file name lo vedete evidenziato perché ovviamente il nome del file lo estrapoliamo da diciamo in due modi che sono non sono altro che i due modi che ci sono tramite un refine per effettuare l'upload delle immagini in wikimedia commons e quindi sono se puoi posso passare a far vedere io interrompo un attimo così faccio vedere io ti riposo un attimo ti riposo anche un po' la voce allora datemi soltanto un attimo di tempo per condividere lo schermo eccolo qua spero stiate vedendo tutti quanti quello che ecco qua dovrebbe andare in questo modo allora questo qui che state vedendo è un esempio di progetto per caricare immagini ora non è del tutto completato perché chiaramente questo qui è un altro progetto ancora sempre con un museo questa volta però di storia naturale di non chatelle l'idea era più o meno la stessa del museo egizio di torino quindi manco a farlo apposta io mi sono trovato qualche mese dopo a lavorare sullo stesso identico progetto su cui per il 95 99% ha lavorato Elena per lo più io ho fatto soltanto da consulente tutto quello che Elena vi sta spiegando adesso tutto quello che vi sta dicendo tutto quello l'abbiamo concordato assieme perché praticamente molto spesso la povera Elena si è trovata di fronte a una marea di stanze di una marea di cose quindi non sapeva magari o aveva dei dubbi più spesso aveva dei dubbi perché ci arrivava però voleva essere certo per cento per cento sicura di come funzionavano le cose su Wikitata e in questo senso le ho dato un po' una mano io anche andandomi personalmente a spulciare altre cose o andando a chiedere ad altri amici che operano in ambito glam come fare queste cose la seconda parte appunto riguardava le immagini e qui potete vedere un modo diciamo di strutturare queste immagini come al solito il concetto è molto semplice qui ci sono due colonne che vedete item cast e item specimen che sono particolari per il mio caso in specie su questo ci torno dopo però quello che vi interessa sapere è che appunto quando Elena parlava di quando Elena parlava di file name the pics main subject eccetera questo va tutto inserito all'interno di Wikipedia all'interno di over refine va inserito all'interno del dataset su cui state lavorando la prima colonna che vedete che anzi provo a espandere un pochino come vedete è letteralmente il file path dell'immagine cioè dovete creare praticamente un dataset con tutti i path con tutti gli indirizzi sul vostro computer delle immagini nella cartella delle immagini si può fare poi vi faccio vedere come se vi interessa e poi sulla base di questo poi cominciate a creare tutto il resto delle informazioni buona parte di questo parte di questo di questo file purtroppo è stato fatto a mano quindi io ve lo dico in anticipo ci sono momenti in cui purtroppo la manina serve ancora e serve ancora fare tutte le cose a mano per quanto riguarda il file path ci sono due possibilità una vi ho detto è quella di mettere l'indirizzo del file sul vostro computer quindi vedete c users utente eccetera eccetera un'altra possibilità invece che praticamente non cambia granché cambia però il file path in questo caso cambia quello che viene inserito all'interno della colonna in quest'altro caso c'è la possibilità anche di caricare i file eventualmente da un repository online quindi da un cloud su questo Elena magari lo so un po' di più perché lei ha caricato da cloud mentre io lo sto caricando da locale quindi volendo abbiamo testato tutti e due praticamente le stesse identiche le stesse identiche funzioni al posto del path locale semplicemente ci mettete l'url sul cloud e quindi forse vi viene più più comodo perché in questo caso basta semplicemente copiare gli indirizzi mail e gli indirizzi url dei file e avete fatto poi vi conviene sempre avere il nome file quindi siccome chiaramente una delle cose che vi viene richiesta nel caricamento su commons è un nome per il file tanto vale copiare questa informazione quindi creare una colonna partendo dalla colonna io ho fatto così partendo dalla colonna del file path di dove si trova l'indirizzo ho creato una colonna sulla base di questa prima colonna immagine solo che ho rimosso tutto il pezzo che era il file path e ho lasciato soltanto il nome dell'immagine perché io non intendo cambiare il nome dell'immagine non intendo in nessun caso farlo è chiaro che se poi a voi conviene invece cambiare il nome dell'immagine lo potete fare direttamente lavorando sul dataset oppure lavorando direttamente sul file che è molto meglio un'altra un'altra cosa su cui volevo attirare la vostra attenzione è wiki text wiki text non è altro che la descrizione in wiki testo dell'immagine quindi voi avete di fatto a mettere i dati strutturati su dell'immagine su commons non basta purtroppo dovete anche creare una descrizione in wiki testo ma e questa è la cosa bella potete fare in modo che la descrizione in wiki testo sia un template che richiama automaticamente i dati strutturati che voi state inserendo all'interno del vostro dataset in questo caso diciamo che nel caso di Elena è stato molto più semplice perché lei ha fatto appunto era artwork giusto? o era dimmi era artwork il template che hai utilizzato oppure si artwork esatto artwork è un template strutturato già per richiamare automaticamente tutti i dati dai dati strutturati quindi voi fate tutto il lavoro sui dati strutturati nella descrizione basta mettere come vedete uguale uguale int file desk uguale uguale int file desk tra parentesi quadre perché questo qui è l'intestazione file descrizione che viene automaticamente tradotta in tutte le lingue e poi inserite il template artwork basta avete fatto questo basta basta e avanza come descrizione poi ovviamente serve la licenza suggerita come al solito la cc by sa 4.0 però qua poi dipende chiaramente in base a quella che è l'accordo che avete con con vostro con la vostra istituzione e poi sotto ci mettete la categoria basta così la cosa bella di open refine è che vi permette di inserire tutti questi dati in un unico in un unico campo potete farlo tutto tranquillamente potete inserire tutti quanti i dati tranquillamente come vedete ve li ecco qua vi manda anche gli a capo nello specifico che cosa è successo siccome si tratta di fossili per cui abbiamo dovuto fare un ho dovuto fare perché sto plurale ma gli stati ho dovuto fare praticamente un caricamento prima di tutti gli specimen quindi di tutte le specie di fossili a cui si faceva riferimento e questo è stato il primo caricamento e poi ho dovuto fare un secondo set di item dedicato ai calchi dei fossili di cui stavamo parlando perché perché ci è stato detto dal progetto di riferimento su wikidata dovete spacchettare in due queste cose questo per darvi un'ulteriore idea di quanto certe volte possa essere effettivamente difficile modellare opere d'arte o fossili o oggetti d'arte oggetti archeologici su wikidata molto spesso quando si tratta di calchi devi dire ok c'era un oggetto originalmente e poi c'è poi c'è il calco a cui a cui che è connesso a un oggetto che non si sa che fine ha fatto in questo caso poi ho dovuto fare anche un minimo di gioco perché ho dovuto mettere appunto sia ho dovuto mettere tutti e due ho dovuto mettere sia lo specimen sia il il numero del cast tra l'altro ho sbagliato a inserire i corsi quindi dovrò rifare il wikidata molto bene questo è il bello della dieta questo è il bello della dieta e poi infine potete vedere le caption le caption sono delle descrizioni in testo normale che sono suggerite che diciamo sarebbe buona pratica inserire in questo caso io le ho inserite in inglese francese italiano perché il progetto è con la svizzera e quindi abbiamo deciso di fare almeno tre lingue di cui due ufficiali francese e italiano visto che hanno sciatelle nella svizzera francese io sono italiano ho detto ok allora e poi lo mettiamo anche in inglese per chi vorrà tradurlo in altre lingue anche qui le caption si può fare con il classico con la classica composizione di campi value replace più varie altre cose si può creare diciamo delle caption che sono più o meno in questo senso customizzate quindi per ogni singola per ogni singola specie viene specificato che si tratta di un calco di quella particolare specie tuttavia se siete in possesso di una serie di dati che sono molto simili tra loro dati omogenei tra loro nulla toglie che le caption possano essere invece del tutto omogenee tra loro questo chiaramente dipende molto da quello che state facendo e dipende tantissimo da quello che è il vostro data setto di partenza brevemente questo qui è un po' come funziona lo schema che è praticamente esattamente come Elena aveva mostrato cambiano alcune cose cambia il fatto che io adesso non posso cambiarlo perché se no mi muore il modello e quindi poi dovrei rifarlo da capo non ho voglia di farlo anche per questioni di tempo innanzitutto lo target wiki base instance qui deve essere wiki media commons perché voi non state lavorando su perché voi non state lavorando per caricare i dati su wiki data ma state lavorando per caricarli su wiki media commons quindi andate qui su wiki data qui in alto seleziona l'istanza di wiki base e cambiate con wiki media commons io non l'ho fatto non lo faccio in questo momento perché altrimenti mi annulla tutta quanto quello che abbiamo da vedere ma voi dovreste cliccare su wiki media commons e cliccare poi su ok dopodiché fate esattamente come se fosse un normalissimo un normalissimo schema su wiki inserite il file path che in questo caso è immagine ah dimenticavo siccome sono immagino tutte immagini nuove tutte immagini che non sono presenti su wiki media commons va fatto riconcilia azioni azioni crea un nuovo elemento per ogni cella ripeto riconcilia azioni crea un nuovo elemento per ogni cella questo dice come vedete che tutti tutti quanti i valori di questa colonna saranno dei nuovi valori cioè state dicendo open refine occhio che questi saranno tutti i nuovi file che dovranno essere caricati e questo poi ovviamente potete fare lo stesso lavoro anche con file che sono già stati caricati in questo caso basta fare semplicemente una riconciliazione solo che anziché farla contro wiki data la fate contro wiki media commons funziona uguale però in questo caso sono tutte nuove immagini quindi sono tutte new il wiki text lo trasferite qui quindi immagine il file path file name è il nome del file la seconda colonna che vi ho detto di fare questa qui con appunto con i nomi dei file e poi il wiki text che è la descrizione in wiki text dopo di che le caption si inseriscono appunto qui mettendole didascalie io vi consiglio sempre di utilizzare quanto meno italiano e inglese italiano perché è la vostra lingua madre inglese per permettere a qualcuno poi di tradurre eventualmente dalle vostre lingue poi se vi sentite comodi anche a utilizzare altre lingue nessuno vi dà limiti potete potete inserire neanche altro e poi le dichiarazioni per le dichiarazioni fate attenzione che ad esempio item cast in questo caso deve essere riconciliato in questo caso deve essere riconciliato quindi deve essere in questo caso contro wiki data perché stiamo parlando in questo vedete che il valore sono già codici di wiki data quindi in questo caso basta semplicemente inserire basta semplicemente inserire il codice di wiki data e fare la riconciliazione ve lo dà in automatico poi ricordatevi di aggiungere copyright status copyrighted copyright license la licenza che avete scelto in questo caso la classica cc by sa 4.0 the pics in questo caso è item cast però nel caso di Elena era in realtà l'istanza di quindi che cosa stava rappresentando era una statuetta era una porta era un calamaio era un papiro era non lo so avete visto che c'erano 231 tipi differenti di item di distanza di quindi a seconda anche dell'omogeneità del dataset quindi degli oggetti che state caricando potete o inserire il dato in automatico esattamente così come il copyright status copyright license e questo qui va va benissimo così potete inserire in automatico così ad esempio io so che sono tutte istanze di fotografia quindi io metto automaticamente instance of photographs e va bene così mentre sul the pics siccome cambia di valore cambia da immagine a immagine o meglio da set di immagini a set di immagini qual è il cast qual è il calco a cui si fa riferimento in questo caso serve una riconciliazione con Wikidata una volta fatto questo valutate se ci sono problemi ovviamente ci sono ma noi per il momento li ignoriamo ad esempio le dichiarazioni senza fonte per Wikimedia Commons se non c'è la fonte non è un problema anche perché credo sia un po' difficile inserire una fonte dentro Structured Data mentre per Wikidata è importante citare il 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 museo o la biblioteca o l'istituzione da cui stiamo traendo i dati Elena nel suo caso ha inserito sempre il museo egizio come fonte perché chiaramente dovevamo dire guardate che questi sono dati provenienti dal museo egizio in questo caso non è necessario dirlo dal museo di Nociatel anche perché poi l'informazione è contenuta nella categoria immagini provenienti da quella determinata collezione del museo di Nociatel o immagini provenienti dal museo egizio di Torino o da qualsiasi altra istituzione a cui state facendo riferimento e l'ultimo l'ultimo cosa l'ultima cosa che vi segnate è appunto new media uploaded questo significa attenzione stai caricando dei nuovi delle nuove immagini e questo però lo sapete già quindi non è un problema è semplicemente un'informazione e come vedete questo è l'anteprima di di quello che poi verrà che potete caricare l'idea è comunque fare attenzione carica le tue modifiche su wiki base non lo farò perché mi sono accorto per fortuna di avere in tempo di che ho fatto un errore con con il wiki text quindi io questa categoria dovrò andarla a fare un'altra volta e dovrò dovrò rifare un'altra volta questa colonna ma vabbè tanto non ci vuole tanto vi farei vedere il il meccanismo che ho utilizzato perché è importante è interessante però purtroppo ce l'ho sull'altro portatile in questo ce l'ho sul portatile e adesso sono da pc quindi per adesso per me è un po' complicato farvi vedere un po' questa cosa ad ogni modo io ho coperto un po' tutta quanta la slide sulle immagini dando anche a Elena la possibilità di riposarsi un po' visto che comunque si sta riprendendo da una brutta influenza e ovviamente quindi ripasso la parola a lei per far vedere qual è poi il risultato finale per il museo egizio però se ci sono domande più tardi ovviamente sono a vostra disposizione io in realtà volevo anticipare una domanda perché è una cosa a cui ho pensato nel momento in cui sono andata a creare un progetto di Open Refine per ogni oggetto con più immagini ero stata molto tentata da inserire il wiki testo non come una colonna che poi io posso andare insomma a elaborare con le formule andare ad arricchire eccetera ma andarlo a inserire direttamente nello schema di Open Refine ecco questo che sembrava un'idea geniale perché ti accelera tantissimo il lavoro in realtà è un qualcosa che va a danneggiare l'immagine perché perché purtroppo se è inserito all'interno dello schema viene persa l'indentazione del wiki testo che ovviamente è importantissima all'interno dell'immagine quindi questo magari è un qualcosa che appunto non so se qualcuno ci ha già provato io ci ho provato ho sbagliato e abbiamo capito il motivo e quindi insomma condividiamo con voi anche quelli che sono stati i nostri errori i nostri percorsi i nostri ragionamenti tra cui anche questo perché appunto la tentazione è enorme quella insomma di trovare delle scorciatoie e però purtroppo insomma in questo caso quella del wiki testo non è possibile è giusto per così poi ho detto pure per rispondere a una delle domande che c'è in chat il wiki testo va trattato con estrema cautela i dati strutturati sono esattamente come funzionano i dati strutturati di Commons funzionano esattamente come quelli di wiki data quindi sono facili da capire sono facili da gestire sono anche un po' più facili perché non c'è bisogno di inserire una fonte quindi avete un problema in meno di cui occuparvi il wiki testo invece è una grana è proprio una grana vera e propria e dovete stare molto attenti il che non significa che sia una cosa assolutamente impossibile da gestire dovete solamente fare attenzione ma una volta che fate attenzione fate l'eventuale sciocchezza che abbiamo fatto tutti voglio dire vi ho dimostrato in diretta che ho sbagliato a fare la colonna del wiki testo perché ero andato proprio bello sparato pensando che i due perché i due campi li ho invertiti capita può succedere a tutti pure a me dopo 17 anni di wikipedia quindi non c'è problema può succedere a tutti una cosa rispondo a Maria Laura Vignocchi in chat la risposta è sì è possibile inserire una licenza diversa dalla fitch in buy.sa ma e come diceva come diceva George Martin tutto quello che viene prima del ma non ha senso il punto è che le licenze che hanno le licenze credit con le clausole nc non commerciale e nd non derivative non sono ammesse su wikimedia commons perché vanno contro i due dei pilastri di wikimedia commons che sono nell'ordine la riutilizzabilità per ogni fine commerciale incluso quindi niente no commercial perché chiaramente se tu imponi una limitazione sul riuso commerciale è legittimo ma automaticamente non puoi più già caricarla su commons perché commons permette il riutilizzo commerciale delle immagini e la no derivative è vietata perché le immagini possono essere modificabili che cosa vuol dire significa non nel senso che io poi ci disegno qualcosa o che ne possa fare un utilizzo come dire vergognoso vandalico roba del genere però se da una foto dove ci sono cinque persone magari a me interessa isolare una delle cinque persone fare un close up un taglio di primo piano sulla faccia di una delle cinque persone io devo essere autorizzato a farlo perché magari una di quelle cinque persone non ha un'immagine su wikipedia e io voglio utilizzare quel close up dell'immagine per mettere l'immagine sulla voce di wikipedia questo è un utilizzo pienamente legittimo la no derivative vi impedisce di farlo e quindi non è ammessa su wikipedia invece tutte le altre creative commons libere quindi la la cc0 che non è una licenza ma è un waiver di dati vabbè la ccbuy e la ccbuy sa invece queste sono ammesse come come licenza prego scusami no assolutamente vabbè in realtà ci stiamo avviando verso verso la conclusione vi volevo solo far vedere insomma quelli che sono gli output che all'interno della presentazione vi ho inserito insomma sia come dato quindi io ce li ho già aperti qui in che cosa si traduce appunto tutto questo questo lavoro si traduce in un item su wikidata di questo genere con appunto un etichetta un identificativo q con i dati che ci ha fornito il museo ogizio tra cui anche poi insomma l'immagine con tutti questi dati che appunto abbiamo cercato di tenere soprattutto insomma con i qualificatori abbiamo ritenuto opportuno mantenere anche il numero di inventario nonostante fosse diciamo sostanzialmente l'identificativo che abbiamo adoperato nel museo egizio però appunto visto che all'inizio vi menzionavamo c'è stata qualche difficoltà con proprio con la proprietà dell'ID ed è legata essenzialmente diciamo al collegamento che noi abbiamo direttamente con la directory del sito del museo egizio quindi al fine di tenere attivo questo collegamento diretto tra la proprietà e la pagina del museo egizio la proprietà è stata diciamo mantenuta così come nel link però ovviamente noi abbiamo ricevuto un database in cui il numero di inventario era leggermente diverso in questo caso era più puntato che stava per prov e quindi è un dato ulteriore sempre utile e lo stesso diciamo questo tipo di lavoro quello che vi menzionavo della normalizzazione del link che è stata fatta era utile anche a tenere attivo il collegamento sia con l'urlino italiano che con l'urlino inglese invece qui insomma ho un'immagine ad esempio dello stesso oggetto e vedete informazioni sul file che ovviamente sono esattamente gli stessi che ne abbiamo inserito in Wikidata quindi diciamo stiamo dando subito l'informazione diretta oltre insomma al link dell'oggetto che questa fotografia rappresenta e in più qui vedete dati strutturati tipici dell'artwork quindi raffigura la rappresentazione digitale di che cosa il copyright il tipo di licenza l'argomento principale poi insomma in automatico queste ulteriori informazioni però in questo modo diciamo poi sono state aggiunte anche col tempo le altre categorie se andate direttamente nel media from museo egizio di Turin qui vedete insomma tutte quante le immagini che sono scartate uploadate con Open Refine infatti poi insomma in conclusione che questo progetto ha portato nuovi 2347 item su Wikidata e 6342 immagini su Commons ovviamente insomma tutto quello che noi vi abbiamo detto abbiamo cercato insomma un po' di presentarvi oggi pomeriggio lo trovate sia vabbè descritto principalmente nella relazione del progetto delle immagini del museo egizio anche qui trovate il link però ho ritenuto utile insieme insomma altri link come quelli legati appunto a Open Refine quindi come scaricarlo soprattutto come poter intervinere con Open Refine con il manuale che insomma è essenziale e anche questa guida utilissima che noi abbiamo utilizzato come Vademercum per l'upload sia tramite URL dal web che è stato il mio caso ma anche per insomma immagini da locale come è stato insomma come è ancora nel caso di Luca poi ovviamente anche insomma un po' quello della regione Lombardia come esempio di elaborazione però esclusivamente di dati in questo caso e ok sto leggendo una delle domande un'ultima curiosità come concilia il Museo Egizio la licenza aperta con il decreto dell'11 aprile 2023 c'è da dire che noi questa operazione l'abbiamo diciamo fatta in corso però l'accordo era stato preso magari su questo mi può aiutare un po' Luca la risposta è che dovreste chiedere al Museo Egizio però l'accordo era in realtà ogni ogni museo è un po' autonomo allora rispetto ad altre ad altre fattispecie di situazioni i musei hanno una maggiore autonomia nei confronti del ministero alcuni musei per lo meno hanno una maggiore autonomia nei confronti del come si chiama del ministero quindi sono capaci di prendere decisioni di per sé mentre per altre istituzioni c'è sempre il rischio di essere portati di fronte alla Corte dei Conti per mancati introiti caso mai dovessero donare materiale in pubblico dominio o con licenza libera per danno erariato invece per i musei non dovrebbe funzionare in questo senso però non conosco bene il decreto ministeriale quindi non vi so rispondere di preciso ma se posso permettermi di aggiungere una cosa Luca su questo se mi senti assolutamente vai 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 allora innanzitutto che il museo egizio comunque ha la forma della fondazione quindi questo è un aspetto importante poi non non so cioè non non so non entra nel merito delle decisioni prese che comunque eh tutta la collaborazione con Wikimedia Italia è iniziata prima del decreto che è stato emesso nell'aprile di quest'anno quindi è stato fatto tutto prima quindi eh questo è il primo luogo poi in secondo luogo il museo egizio ha appunto è una fondazione quindi eh mentre il decreto riguarda eh i musei statali eh e poi anche la considerazione comunque questo al di là cioè eh al di là di quello che è avvenuto nel museo egizio che ripeto non so il processo decisionale non non voglio eh cioè non parlo di questo perché non lo so però una valutazione che qualunque ente potrebbe fare è sempre quella anche ehm della valutazione del rischio nel senso che eh è vero che c'è il tariffario però è anche vero eh come dicevi tu Luca il problema del mancato introito c'è anche appena stato un parere della Corte dei Conti che è il secondo perché il primo c'è stato nel duemilaventidue che andava sostanzialmente a dire che non è vero nel senso che comunque è dimostrato che i costi di mh manutenzione del eh di una procedura per eh fare le riproduzioni farle pagare in termini di costi del personale eccetera è superiore all'introito quindi tutte queste valutazioni vanno poi fatte anche sulla base sì è vero c'è il tariffario ma non esiste solo il tariffario ad esempio ci sono due pareri della Corte dei Conti che vanno a diciamo a smentire quella linea poi eh sì diciamo che è una cosa piuttosto recente che accogliamo con grosso piacere e posso dire che quando ero io in direttivo questo era un problema che invece molte istituzioni ci ponevano e che ha messo la pietra tombale su molte collaborazioni perché poi c'era gente che giustamente voleva continuare a fare carriera e una denuncia per danno erariale alla Corte dei Conti vi posso assicurare che ve la blocca sì sì no ma non dico che non ci non esiste il problema è solo che per fortuna non non tutto è bloccato ecco no no ringraziamo la Corte dei Conti per aver detto quello che noi dicevamo da tempo e cioè che è una che è solo la scusa per continuare a tenere chiuso tutto senza e cercare di monetizzare cose su cui poi alla fine in realtà è difficile monetizzarci sopra e non conviene molto semplicemente ne approfitto perché così ti rispondo al volo a Tommaso che chiedeva sulle immagini su Commons allora è sempre meglio mettere tutte le categorie all'interno del Wikitext quindi più categorie sono meglio è dopodiché se vi accorgete che vi siete mancati che vi siete dimenticati qualche categoria potete sempre aggiungerle dopo a mano oppure e questa è la cosa che io preferisco la comunità può decidere da sola di categorizzare ulteriormente le cose questo è pienamente nella loro cosa perché poi alla fine voi fate lo stretto necessario voi fate quello che siete sicuri di poter fare poi su quelle che sono le ulteriori categorizzazioni lasciate fare a quelli di Commons che loro sanno e vi posso assicurare che poi lo sanno meglio loro e io con le categorie di Commons ho un brutto rapporto quindi mi limito a questo chiamola così ma volevo chiedere anche una cosa su questo sempre perché appunto con le categorie di Commons sono complicate avete usato una categoria unica per indicare la provenienza dall'istituzione quindi foto del museo egizio per esempio immagine del museo egizio e poi delle categorie prese dai diciamo metadati dell'immagine per indicare invece che cosa l'immagine rappresenta ho capito giusto allora rispondo rispondo io a questa domanda in realtà proprio vista la mole di immagini di dati con cui stavamo lavorando è stato diciamo caricato su Commons con l'unica categoria di è stata generata appositamente di media dal museo egizio di Torino poi in un secondo momento è stata fatta una categorizzazione un po' più specifica nel momento in cui è capitato che c'era qualche item con 100 fotografie e vi assicuro che andare a recuperare 100 link è molto carino in quel caso ovviamente ti viene sospetto magari questa categoria già esiste quindi nel momento in cui già esisteva la categoria di quel relativo insomma magari quel relativo monumento quella relativa mummia o insomma tempietto specifico è stata inserita già nel wiki nel wiki text in quel caso poi ovviamente anche nella fotografia di esempio che vi ho fatto vedere quello diciamo è un lavoro che non ha già completato per così dire un po' anche la la community come diceva come diceva Luca perché magari si va a categorizzare appunto in maniera più specifica nel dettaglio quindi per materia per secolo per provenienza eccetera per cui appunto anche visto insomma qual era l'obiettivo principale ovvero vedere riusciamo a fare questo progetto con Open Refine a fare l'upload perché ovviamente avevamo la difficoltà che noi non potevamo scaricare in locale tutte queste immagini di questa qualità e quindi ovviamente si è lavorato in cloud però nel cloud anche lì devo dire insomma ci sono state non poche difficoltà per permettere a Commons di riconoscere il dominio del nostro cloud affinché si potesse effettuare l'upload quindi per iniziare categoria principale con in case eccezionali monumenti particolari o particolarmente numerosi anche più di una categoria però poi tutti gli altri oggetti magari ci sono anche l'ago il filo e il peso per la tessitura in quel caso non è stato fatto questo lavoro però ovviamente si poteva fare anche leggo un'altra domanda quali sono state le maggiori difficoltà pratiche nel flusso di lavoro forse vabbè diciamo che un po' le abbiamo accennate innanzitutto in Wikidata il fatto magari che qualcuno continuasse a creare gli item nel mentre si stava ancora lavorando alla preparazione dei dati prima dell'upload massivo generava dei problemi perché ovviamente poi si andavano a generare dei doppioni con l'identificativo e ovviamente si può fare l'operazione tramite i query però questo vi assicuro un po' rallenta perché magari inserisce dei dati ma non sono completi e quindi però te ne inserisce altri ancora che non vuoi andare a perdere quindi sicuramente questo nella fase dei dati e quella della pulizia e della preparazione ovviamente dipende tutto dal dataset di partenza perché se un dataset è diciamo già scritto bene ovviamente dipende anche dalla natura per cui viene creato quel database però in questo caso diciamo separare le dimensioni le misure di un oggetto ve l'ho fatta semplice però comunque sono andata lì a controllare effettivamente se il primo numero fosse l'altezza se il secondo numero fosse la larghezza e l'ultimo la lunghezza per avere questo perché non vogliamo andare a perdere i dati ma non vogliamo neanche andarli inserire sbagliati ecco quindi sicuramente diciamo questo dipende sempre dal tipo di database che abbiamo o ancora per inserire il legno abbiamo un po' diciamo ci siamo confrontati e Luca però siamo riusciti a trovare la quadra l'altra questione era appunto questa questione del cloud quindi dei link per cui ovviamente trattandosi di tanta 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 memoria occupata non potendola scaricare in luogo diciamo abbiamo dovuto trovare questa soluzione motivo ulteriore per cui in realtà poi abbiamo generato un generato un progetto di OpenRefine per ogni item quindi immaginate quanti ne ho memoria di OpenRefine e direi principalmente questi quelli che sono emersi poi durante il flusso insomma di spiegazione stasera ma magari Luca viene in mente qualcos'altro che adesso sfugge no credo che hai coperto per lo più tu diciamo si sta rimbambendo il computer all'improvviso si hai detto per lo più tutto tu soprattutto la parte di essere sicuri che nessuno venga a lavorare sulla stessa cosa su cui state lavorando voi e un'altra cosa invece su cui volevo veramente complimentarmi con Elena ancora una volta e l'estrema pazienza con cui è riuscita a fare la riconciliazione di tutte le differenti tipologie distanze di ma soprattutto la pazienza nel distinguere i vari come dire i vari identificativi sull'identificativo del del museo egizio ci abbiamo speso riunioni su riunioni perché puntualmente usciva sempre fuori quella piccola eccezione che andava a darci fastidio quando andavamo a creare la regex per dire ok quali sono i valori molti di voi sanno che c'è una re un'espressione regolare per dire quali sono i valori accettabili per questo determinato identificatore e immaginatevi avere 4-5 differenti categorie di cose con diciamo gestione perché alcuni avevano il più in mezzo altri avevano 5 numeri altri ne avevano 3 altri ne avevano 4 quindi prova a fare un'espressione regolare che va a racchiudere tutte queste decine di casi differenti e per fortuna siamo stati anche in questo caso aiutati già da altri utenti piuttosto tecnici di Wikidata per fortuna anche loro italiani anche questo ha aiutato tanto avere a che fare con gente che parla la tua lingua quando ci sono questo tipo di problemi aiuta tanto ma anche in genere allora spezzo una lancia anche a favore di altre persone c'è un canale telegram che è dedicato a OpenRefine di cui ovviamente ho suggerito a Elena ma mi sembra che tu già ci fossi quindi te l'ho suggerito ma te l'avevi già trovato da te che è dedicato esclusivamente a OpenRefine e a tutte le cose che riguardano OpenRefine io casomai vi posso tramite Elena farvi avere il link a questo gruppo casomai vi doveste mai trovare a lavorare su OpenRefine avere dubbi avere incertezze come si fa a trasformare questa colonia in quest'altro oh mio dio devo togliere un pezzo dei dati come faccio che è successo a me per più di una volta per il per il museo svizzero basta chiedere là dentro ovviamente in inglese perché chiaramente la lingua ufficiale è l'inglese e però qualcuno che vi dà una mano lo trovate nel giro di qualche ora la risposta la risposta arriva deve essere veramente estremamente complicata la domanda che fate per non avere risposta ma ho visto domande particolarmente complicate ricevere risposta quindi potete chiedere anche là dentro grazie grazie mille se non ci sono altre domande ne faccio una io che forse non c'entra niente i modelli 3D perché so che è un'altra tipologia cioè ne ho sentito parlare qualche volta sul fatto che in commons si può anche caricare questo tipo di immagine ed è un po' avevo visto un video qualcosa il museo egizio ha iniziato a usare anche questo tipo di riproduzione dei beni degli oggetti non è una cosa che è rientrata nel database di cui vi siete occupati voi ok no no la prossima puntata insomma c'è ancora una prossima puntata in ogni caso volevo mi è appena venuta in mente che insomma oltre alla guida anche su commons ci sono delle dei tutorial per poter effettuare gli upload su commons oppure diciamo estrarre all'interno diciamo l'elenco delle fotografie di una categoria se vogliamo andare ad aggiungere qualche dato specifico e quindi diciamo questo magari lo possiamo aggiungere sempre agli strumenti insomma ai link utili e probabilmente magari sarà una futura implementazione come è stata insomma quella di OpenRefine da Wikidata a Commons ora insomma magari anche ad altri tipi di file va bene se ci sono altre domande altrimenti l'ora insomma è quella che avevamo preventivato complimenti bellissimo lavoro davvero e anche grazie mille per essere venuti a presentarlo qui perché penso che sia un valore aggiunto per tutti quelli che hanno partecipato e quelli che vedranno la registrazione sì davvero un enorme lavoro vi ringraziamo insomma se non ci sono altri interventi grazie e alla prossima occasione grazie ciao 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 Grazie a tutti.